Jeep rilancia il secondo Freedom Days Event che coinvolgerà fino al 30 giugno tutte le concessionarie italiane per festeggiare al meglio il 75esimo anniversario del marchio. I Jeep Freedom Days Event offriranno l'opportunità per tutto il mese di maggio di accedere a promozioni esclusive su tutta la gamma Jeep presso la rete ufficiale che rimarrà aperta ogni giorno. Disponibile un vantaggioso finanziamento Jeep Excellence con 4 anni di garanzia inclusa nella rata e 4 anni di manutenzione in omaggio. Protagonista assoluta dell'evento celebrativo sarà la serie speciale 75esimo anniversario prodotta in tiratura limitata e declinata sui modelli Wrangler, Renegade, Cherokee e Grand Cherokee. La Renegade 75esimo anniversario offerta a 33.000 euro è equipaggiata con il motore Multijet 2 diesel 2 litri da 140 cavalli in abbinamento a un cambio automatico a 9 rapporti o alla trasmissione manuale a 6 marce. La Cherokee di 75esimo anniversario disponibile a 55.000 euro si basa anch'essa sull'arrestimento Limited ed è dotata del propulsore Multijet 2 turbodiesel di 2,2 litri da 200 cavalli associato alla trasmissione automatica a 9 rapporti. A domani con la prossima breaking news A domani con la prossima A domani con la prossima A domani con la prossima